Casa Museo Vambruschi di Arezzo inaugurata una mostra non solo da osservare ma anche da vivere si chiama Flowers di Mauro Drudi. Come nasce questa idea? È la sesta personale, giusto? Esattamente. L'idea è un'idea che forse è dentro ognuno di noi. Io ho dipinto pop, ho dipinto astratti e altre cose però i fiori secondo me sono una cosa che non solo secondo me sono già dentro di noi, oserei dire, nella nostra anima e quindi a periodi mi lascio andare a questa liberazione e faccio fiorire i fiori che sono dentro di noi come dei boccioli. Penso che ognuno abbia dentro dei fiori, infatti credo che la comunicazione floreale sia forse quella meno socialmente impegnata però che arriva direttamente al cuore di tutti. Una mostra con l'organizzazione tecnica dell'associazione Ailantus con la partecipazione di edizioni ABOCA e Garden Club. Aghezzo è una particolare tecnica pittogica, la vogliamo spiegare? Dunque, il filosofo Andrea Meccacci che ha scritto l'introduzione del catalogo che sarà presentato più nei prossimi giorni parla di impressionismo gestuale per una cosa molto semplice. C'è l'impressionismo perché come potete vedere anche dagli altri quadri c'è l'impressione del quadro, l'immagine viene scomposta in colori che sono quasi sempre usati in maniera pura e si uniscono più negli occhi dello spettatore che nelle mani, anzi perché io non uso pennello e non uso niente per fare questi quadri. Gestuale perché se guardate tutti gli steli di tutti questi quadri sono fatti tirando il colore direttamente dal tubo, quindi l'unica cosa che gestisco è magari se c'è un buco più grosso o un buco più piccolo e bisogna cercare di colpire all'altezza giusta, però la linea che viene è una linea assolutamente naturale perché un colore che è libera nell'aria e si infrange su una tela non viene dritto e non viene neanche troppo, viene come deve venire. E poi per i visitatori ci sarà la possibilità di dare un nome all'opera, dammi un nome si chiama questa. Se volete inquadrarla è questa e praticamente Antonella Di Tommaso, organizzatrice, ci ha chiesto di mettere a disposizione un'opera e abbiamo pensato di fare quella più, diciamo, comprensibile, un fondo chiaro con fiori rossi che potrebbero essere dei papaveri, non lo so, però il nome, siccome negli altri quadri ci sono quasi in tutti i quadri i nomi di donna, questo è un consiglio, potrebbe essere di donna, ma potrebbe essere anche un'invenzione di uno spettatore. Chi ha una giuria in sedacabile giudizio di questa giuria deciderà quale è il nome più bello e a questa persona sarà dato in omaggio il quadro.